Oggi la parola di Dio ci costringe a metterci ancora una volta nel dubbio. Davanti alla disponibilità dei quattro amici nell'aiutare il paralitico non possiamo non riflettere sulla nostra disponibilità davanti agli altri. Sono io un buon amico mi dimentico dei miei bisogni per aiutare qualcuno. La parola di Dio di oggi è un buon esame di coscienza sull'amore donato agli altri. Fermiamoci oggi dalla frenesia del fare e soffermiamoci sulla necessità di amare. Alla fine della giornata i momenti che più ci avranno rallegrato saranno sicuramente quelli in cui ci siamo fatti dono per un altro. E' qui che si trova la vera gioia e la pace del cuore. Oggi valuta quante volte durante la giornata hai chiesto l'aiuto a qualcuno e quante volte hai offerto il tuo aiuto a qualcuno.